ehi tu iscrivetevi al mio canale ciao ragazzi benvenuto questo nuovo video oggi vi faccio vedere come metto l'ovetto in macchina e per chi me l'ha richiesto appunto vi faccio vedere allora allora guardate dentro la macchina io sottomesso e il parasole giusto per non rovinare e l'interno in penne però volendo potete farne anche almeno io la metto così vedete non c'è bisogno di un sottocoso cioè il passeggino si mette così com'è basta giusto mettete il parasole se non volete giusto che non si graffi i sedili se no potete farlo anche senza e niente ragazzi poi vi faccio vedere neanche come metto dentro il passeggino lo vedete basta che vi ho fatto vedere nel video passate qua così facile anche ad alzarsi allora io consiglio di mettere le ruote dietro e che le ruote davanti si pieghino così così sta proprio vedete che anche ci sta tutta qua mettete magari se dovete farla spesa insomma chiudiamo vedete come si chiude senza senza nessun niente mettete la sicura la bambina e basta fatto così se questo video vi è piaciuto lasciate un gran like e scrivete nei commenti se avete qualche domanda e alla prossima ciao